benvenuti a tutti dal bar di red comet e per questo terzo secret seatrap aggiornato all'8 maggio di quest'anno allora innanzitutto bisogna fare presente che è stata attaccata l'ennesima base in crimea l'ennesima base navale in crimea era solo un piccolo approdo è stata attaccata con alcuni droni che pare abbiano comunque colpito un'imbarcazione veloce russa e danneggiato le strutture portuali esattamente come andiamo a vedere nelle foto scattate ecco qui la struttura è solo una piccola struttura non è una grande base non è niente di comparabile neanche lontanamente alla base di non grossisca o di sebastopoli però è ancora una volta la testimonianza di come le acque del mar nero antistanti la crimea comunque siano ormai diventate un approdo non sicuro per il naviglio della flotta di ciò che rimane della flotta del mar nero vi ricordi vi ricordo sempre che gli ucraini in questo momento sono l'unica nazione che sta vincendo una guerra navale pur non possedendo una sua marina vera e propria da questo punto di vista continua comunque la strategia ucraina di mantenere sul chi vive le unità di terra di aria e di mare russe in crimea ripeto per me questo fa parte di una strategia di soffogamento del territorio della crimea da parte degli ucraini ci spostiamo ieri in questi giorni è stata riportato l'abbattimento comunque i russi riporto la perdita di un bombardiere su coi 34 non si sanno ancora le cause l'equipaggio non non è sopravvissuto in quanto pare che non ci sia stato proprio neanche il tempo di eiettarsi quindi probabilmente abbattuto dalla contraerea ucraina che mette a segno un altro colpo importante considerando sempre che i su coi 34 sono la punta di lancia dell'attacco in profondità della vks ossia dell'aviazione militare russa probabilmente centrato o da qualche batteria patriotto o da qualche s 200 s 300 ucraino fatto sta che il velivolo non è più tornato alla base addirittura ton cooper ricorda di come l'equipaggio si sia macchiato di crimini di guerra durante la guerra in siria bombardando ripetutamente i civili pare infatti che questo su coi 34 abbattuto sia il famigerato rosso 21 dal codice che aveva in fusoliera viene riportata la notizia che comunque sono stati consegnati i primi i primi batch del nuovo pacchetto di missili patriot all'ucraina e che la romania ha annunciato che probabilmente cederà una almeno una o due batterie patriot all'ucraina non si sa ancora solo un annuncio vediamo un po cosa succede nel frattempo nei giorni passati diciamo tra ieri e l'altro ieri si sono registrate alcune esplosioni in quel di mariupol vi ricordiamo che mariupol comunque è occupata dal 2022 dopo la stena resistenza della fanteria di marina ucraina e del reggimento azov e comunque territorio occupato non si sa ancora se sono stati i partigiani o se sono è stato un bombardamento con missili atacams o qualche altra cosa ma probabilmente è stato un attacco partigiano e adesso un fatto spinoso salta fuori che ormai da mesi il munizionamento escalibur a guida gps è praticamente inutile o quantomeno la sua efficacia è droppata dal 70% al 2% nelle prime sei settimane questo perché i russi hanno capito come giammare il segnale gps ora il problema qual è il problema è che probabilmente il design di quest'arma è stato ipotizzato contro un nemico come gli insurgents afghani che non avevano una vera e propria industria in grado di controbattere questo tipo di arma i russi per quanto siano alle strette per quanto siano a corto di tutto comunque hanno sempre delle persone dei cervelloni che lavorano su questo tipo di armi e su come giammarle il problema probabilmente è un problema di aggiornamento del software dell'escalibur ma anche probabilmente un problema hardware cioè di dimensione dell'antenna perché? perché oltre ai proiettili escalibur anche i GLMRS vengono giammate le gps ma stranamente i missili Atacams che utilizzano lo stesso sistema di guida non sono interessati da questo disturbo gps probabilmente perché l'antenna ricevente del sistema gps è molto più grande ed è in grado comunque di captare anche dei deboli segnali quindi si sta cercando in qualche modo o di aggiornare il software dei proiettili escalibur per farli tornare nuovamente operativi oppure di fare una modifica hardware certo è che comunque per esempio a quanto pare le nazioni occidentali abbiano ignorato questo aspetto convinti che magari il contesto operativo ucraino sia un contesto relativamente statico invece no per esempio gli ucraini dicono che anche le loro radio a salto di frequenza ogni 3-4 mesi devono essere sostituite o quantomeno bisogna cambiare il software di gestione dei segnali perché puntualmente i russi riescono a superare queste problematiche dal fronte non ci sono grandi novità il settore a ore kit nel saliente di ore kit ci sono stati piccoli aggiustamenti registrati nella giornata di ieri ma sostanzialmente non c'è stato nessun grande ampliamento del saliente quindi i russi o si stanno preparando per cercare di portarsi più avanti in modo significativo oppure solo in una fase di stanca il che potrebbe anche essere io propendo per la prima potesi semplicemente stanno raccogliendo le forze si stanno consolidando per continuare l'avanzata verso Nova Alessandrivska considerando che ormai sono proprio alle porte di questo paesino probabilmente stanno consolidando i fianchi proprio per avere una base più solida il secondo fronte di interesse è Chasiviar che fondamentalmente è assolutamente statico almeno fino a ieri sono già 3-4 giorni che non si riscontrano grandi novità non c'è nessuna avanzata russa in questo momento quindi anche qui sono due le cose o i russi stanno tirando il fiato per poi provare uno sfondamento di massa nei prossimi giorni oppure il peso logistico dell'avanzata e in più l'efficacia della difesa ucraina stanno rallentando l'avanzato comunque il tentativo di sfondare nella zona di Chasiviar questo è da vedere può anche darsi che in concomitanza con lo sfondamento di Odechitne le risorse russe siano così limitate che non consentono di alimentare adeguatamente due sfondamenti in contemporanea sul fronte questo ragazzi lo sapremo nei prossimi giorni perché ancora comunque la situazione può mutare non si può mai sapere si attende sempre questa grande offensiva estiva russa in realtà sarà una serie di piccole offensive e di piccoli attacchi niente di veramente eclatante l'ultima notizia riguarda principalmente anzi le ultime due notizie riguardano il fronte interno ucraino la prima è che ieri no questa notte quindi a cavallo fra il 7 e l'8 maggio c'è stata l'ennesima missilata che ha visto l'utilizzo di 50 missili la crociera russi e circa una ventina di droni sempre indirizzati questi attacchi contro la power grid ucraina danneggiando gravemente tre impianti di produzione come si dice termoelettrica da questo punto di vista si vede ancora una volta come gli ucraini non abbiano una difesa sufficiente a proteggere sia l'interno del paese sia la difesa del fronte della prima linea quindi sono costretti fondamentalmente a fare dolorose scelte si spera quindi che in futuro vengono dotati di quegli apparati di quelle batterie di quei missili che occorrono per consolidare la difesa aerea notizia di ieri i due alti funzionari del governo o comunque dell'entourage militare di Zelensky sono stati arrestati in quanto coinvolti dell'ennesimo tentativo di assassino del presidente ucraino da questo magari ci sarà qualche approfondimento è comunque un classico è comunque risaputo che sin dall'inizio della guerra l'FSB sta cercando in tutti i modi di mettere fuori gioco il leader ucraino detto questo per questo sitrep è tutto ci aggiorniamo e vediamo un pochino se nella giornata di domani giovedì 9 maggio facciamo una live dove magari trattiamo più approfonditamente questi argomenti detto questo il bar di Red Comet vi saluta e ci aggiorniamo alle prossime attività del canale del canale grazie a tutti grazie a tutti